Dopo la sconvitta avvenuta domenica scorsa nel campo di Mazzara del Vallo contro la San Cataldese, partita decisiva e secca per la promozione in Serie D, persa dalla Società dei Templi per 3-0, la Presidente dell'Acragas, Sonia Giordano, smentisce categoricamente le dichiarazioni sul futuro della squadra e delle società apparse recentemente su alcune testate giornalistiche. La Presidente Sonia Giordano afferma come le dichiarazioni rilasciate alla stampa sono prive di ogni fondamento, nessuno è stato autorizzato a rilasciare alcun tipo di intervista e leggere quel tipo di dichiarazioni che sottolinea sono prive di ogni fondamento, è stata sicuramente un'uscita poco felice. A oggi, continua Sonia Giordano, l'unica persona titolata a rilasciare dichiarazioni alla stampa sono io, che sono la Presidente ed è mia intenzione parlare con la verità ai tifosi e alla città intera. Non è infatti per nulla carino illudere la tifoseria sul futuro che è ancora tutto da decifrare. Ai tifosi bisogna parlare con le carte e i documenti alla mano e solamente quando si ha la certezza che l'obiettivo si possa raggiungere o subito dopo averlo centrato come piace fare a me. Non è onesto promettere cose che non si potranno verificare solo per accaparrarsi la simpatia dei tifosi. Dalla scorsa domenica con la fine della stagione sono cessati i rapporti contrattuali in essere e pertanto nessuno è autorizzato a rilasciare dichiarazioni alla stampa in nome e per conto della società Agragas 2018. Qualsiasi notizia, continua Sonia Giordano o dichiarazione rilasciata da chi che sia non dovrà essere presa in nessuna considerazione perché è priva di ogni fondamento. Mi preme sottolineare alla stampa e ai tifosi che dopo la conclusione di questa stagione sportiva sto valutando attentamente come programmare il futuro della società. Al momento sono ancora molto delusi e amareggiata non solo per la sconfitta ma anche per alcuni atteggiamenti che non mi sono per nulla piaciuti. Ho seguito la partita contro la San Cataldese ingradinata accanto ai tifosi e ho visto quanto amore hanno nei confronti della squadra. Non è giusto illuderli ma essere corretti con loro. Sto valutando, conclude Sonia Giordano, una serie di cose e nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa dove saranno affrontati i temi inerenti al futuro dell'Agragas Calcio.